Voglio vedere quella saetta, distruggere tutto Dai, dai Konami, credo in te, ce la puoi fare A farmi vedere la saetta Boom Dai, 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 fulmine, fulmine Scassa tutto, scassa tutto Vediamo Fulmine, fulmine, chi... Hey guys, benvenuti sul canale Twitch degli Amendola Brothers Io sono Jonathan, ed eccoci qui ragazzi Ritornati su PES 2019 Mobile ragazzi E che hanno aggiunto, hanno aggiunto tantissimi giocatori IF Giocatori del Liverpool potenziati Nuove leggende E oggi spacchetteremo a più non posso ragazzi Quindi seguitemi durante tutta la live Se state vedendo questo video come strato live Sul canale YouTube Mettete un bel like ragazzi E seguite il primo link in descrizione Canale Twitch per vedervi Per vedervi appunto questi spacchettamenti in live con noi Per seguirci in live e non perdervi niente Quindi primo link in descrizione Oh, quanta bella gente che vediamo qua Quanta bella gente Speriamo di trovare qualcuno di buono C'è pure Francesco Totti C'è Adriano C'è Maldini che ce l'ha sul console Ma non sul mobile Allora ci sono 4 regali addirittura Vediamo cosa ci hanno dato Allora Rimborso amministrativo 10.000 GP Grazie Poi ci hanno dato Quello lì dove ci può uscire una leggenda Grazie Grazie Poi ci ha dato pallone silver o più Grazie Grazie Ti spacchetteremo pure a te 10 monete My club Che sono sempre buone Allora Speciale Abbiamo Mamma mia Quanta gente Quanta gente Abbiamo questo qui Gratis Allora abbiamo Prima di tutto Un silver o più Poi abbiamo Questo qui Che ci possono uscire Ronaldinho Beckham Ci sono proprio pochi giocatori Che possono uscire Quindi abbiamo Buone probabilità Di trovare qualcuno di forte Poi ci abbiamo Liverpool club selection Ragazzi Che è sicuro pallone nero Uno E sono fortissimi Sono 8 giocatori Salah 94 Van Dijk 91 Alisson 90 Roberto Firmino 90 Vinaldum 89 Non so se l'ho pronunciato bene Milner 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 87 Shakiri 87 Arnold 87 Mamma mia Cioè Qualsiasi ci esce Va bene Poi ci sono i giocatori If normali Ragazzi I giocatori if Di questa settimana Che sono Sei palloni neri Quattro ore Un argento E noi beccheremo Quell'argento Lo so già Lo so già Tiago Silva Mamma mia Una bestia Dzeko 89 Pogba 89 Magari lo trovo Pizzi 88 Sterling 88 Sono schicciato Ferreira 79 Vabbè non ci serve Scov Poi Giuste Poi Nesri Belanda Sirigu Ebbè E Sterling Noi cerchiamo Questi primi tre Perfetto Perfetto ragazzi Quindi ci spacchetteremo Tutta sta roba Sperando di rinforzare La nostra squadra Quindi apriamoci il primo ragazzi Silver Ball In Gaggia Di livello 1 Oh Cioè c'è un pallone nero Ogni tanto Riesco a beccarlo Giusto io Speriamo ragazzi Speriamo Dai Gonami Dai Gonami 3 2 1 Eccolo Cliccato Cliccato No C'ero quasi C'ero quasi Col pallone nero Chi sei Ma chi è questo Baumgartlinger Ma che cacchio di nome c'hai Amico Amigno Prima c'è il verso del cane Baum Poi Mgartlinger Vabbè Vabbè Grazie Grazie Conami Grazie di queste gioie Che mi dai Grazie Conami Ti voglio bene Miami Vabbè Questo era Silver O più Quindi si sapeva Che era molto probabilmente Argento Quindi va bene Va bene Vabbè Spacchettiamo il primo del Liverpool Ragazzi Spacchettiamo il primo del Liverpool E speriamo di trovare Uno fra Alisson Salah E Van Dijk Per piacere Uno fra questi tre Pure gli altri vanno bene Pure Firmino va bene Però Questi tre sarebbero proprio Top Top Apriamo il primo 100 monete Arrivederci Bye bye Ma non va niente Ne abbiamo 7200 Dai dai gioco Dai gioco Dammi qualcosa di buono Vogliamo vedere quel fulmine Vogliamo vedere quel fulmine Amico mio Vogliamo vedere quel fulmine Dai Dai per piacere Dai Boom Cliccato ragazzi Fulmine Fulmine Dammi salata Dammi qualcuno Fulmine Sì Sì Chi sei Alisson 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 Ma sostituiamo quello normale Con quello if Alisson E vai E si parte a bomba Ragazzi Si parte a bomba Volevo uno di quei tre E uno di quei tre Mi ha dato Konami mi vuole bene Konami mi vuole bene Alisson Perfetto così Si parte a bomba Ragazzi E vai E ma non passa nessuno Non passa nessuno In porta Andiamolo subito Subito ad allenare Perfetto 85 Già Ragazzi Livello uno E quasi più forte Di quello che ho normale Che è 87 Se non sbaglio Quindi andiamo ad allenare Ragazzi Il L'Alisson If Con l'Alisson normale Sperando che prenda Tanti livelli Questo qua 3500 sicuro Ma può prendere in più Speriamo bene Dai 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 Un bel po' di livelli Boom Avanti Vediamo un po' quanti livelli E uno E due E tre E quattro E cinque E sei E sette E otto E nove E di Undici Dodici Tredici Vai ancora Sali Quindici Vai Sali amico mio Sali Venti Venti livelli Perfetto E già 89 Ragazzi A livello 20 E già 89 Venti livelli Mi è andata bene Ragazzi Poteva andarmi pure meglio Secondo me Ma venti livelli Ottimo 89 Io ce l'avevo 87 Quindi E già due over all in più Superiore a quello normale Che avevo E si parte alla grande Ragazzi Si parte alla grande Sono contento Ha preso tanti livelli Buono 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 Allora il turno di quello Della settimana Lo spacchetto Lo faccio per voi Ragazzi Lo faccio per voi Un bel Tiago Silva Un bel Pogba Dai dai Uno di questi forti Dammi uno di questi forti Apriamo il primo Ragazzi 100 monete Boom Dai gioco Dai Konami Un'altra bella gioia Un'altra bella gioia Voglio prima di tutto Pallone nero Poi se mi vuoi vedere Pure un bel fulmine E meglio ancora Voglio proprio Le saette Voglio vedere Dai Konami Dai Konami Dammi questa gioia Dammi questa gioia 3 2 1 Oh Boom Dai 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 Pallone nero Pallone nero Non fulmine Chi sei? Un altro portiere Mi ha dato Sirigu Mi ha dato Sirigu Non mi serve Un altro portiere Però pallone nero Non fa niente Come sostituto di Alisson Ma quando lo cambio Alisson Quando lo cambio Sirigu Un altro pallone nero Un altro portiere Però vabbè ragazzi Meglio di un pallone oro E un pallone argento Sirigu Però non mi serve Basta portieri Konami Sto a posto con i portieri Ti ringrazio Pallone nero Si Ti ringrazio Però ce l'ho già Pallone nero Portiere Dai Konami Apriamolo ragazzi Questo è gratis Questo non si paga E' offerto dalla casa E speriamo di trovare Qualcuno di forte Ci sono parecchi palloni neri Guarda Quindi Dai Come ho detto Parecchi palloni neri Ma trovo il cavo Trovo l'argento Dai dai Konami se non sbaglio Ne regalerà altri Di questi nei prossimi giorni Forse Non ne sono sicuro Però speriamo Dai dai Gioco Lo faccio Ragazzi Clicco Clicco ragazzi Boom Ho cliccato Ho cliccato Ho cliccato No Fai lo scatto No Pallone oro C'ha la noglu C'ha la noglu Mi è uscito C'ha la noglu Che me ne faccio Di c'ha la noglu Mannaggia Potevo in mezzo A due palloni neri E' uscito Che sfortuna Mi è dato Allora Siamo partiti a bomba Con Alisson La gioia iniziale Però stiamo andando In discesa Gioco Non va bene Non va bene Dobbiamo risalire Ci vuole una ventata Di aria fresca Qua C'ha la noglu Non ci serve Non va bene Speriamo di trovare Qualcuno di buono Ragazzi Andiamo a spacchettare Andiamo a spacchettare Cento monete Boom E apriamo Liverpool Dai Momo Momo Vieni a me Van Dyke Vieni a me Dai per piacere Chi ci esce Esce va bene Però voglio vedere Quel fulmine Voglio vedere Quella saetta Distruggere tutto Dai Dai Conami Credo in te Ce la puoi fare A farmi vedere La saetta Boom Dai 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 Fulmine Fulmine Scassa tutto Scassa tutto Vediamo Fulmine Fulmine ci sei Salah 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 Perché ti amo Ole E vai E vai Momo Quello che mi serviva Ragazzi Perfetto Ma mi possono uscire pure tutte schiappe Mi possono uscire Momo Salah De Liverpool If Questo è 94 Ragazzi Abbiamo trovato il più forte Il più forte che potevamo trovare Una bestia Una bestia Ragazzi Sulla fascia E 87 Del livello 1 E 87 Del livello 1 Ragazzi Questo Troppo bello Troppo bello Queste sono le gioie Questo è il godimento totale Guardate qua Momo Salah Momo Salah Grandissimo Grandissimo Ragazzi Grandissimo Per noi E vai Siamo pronti ragazzi Ci spacchettiamo un altro Ci spacchettiamo L'altro Player of the Week Ci spacchettiamo ragazzi Sperando di trovare Qualcuno di buono Sperando di trovare Tiago Silva Pogba Sterling Così così Dzeko Pure andrebbe bene Speriamo bene Che la Konami ci voglia bene Speriamo bene Che la Konami ci voglia bene 100 monete Bye bye Ma noi ce ne frega E speriamo di trovare Qualcuno di forte Vogliamo il fulminazzo Vogliamo il fulminazzo Sul pallone nero Vogliamo le saette Vogliamo fulmini E tuoni Vogliamo di tutto ragazzi Vogliamo di tutto Per piacere Per piacere Konami Dammi qualcosa di buono Dai ragazzi Datemi la vostra forza La vostra energia Dai 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 Dammi un ballone nero Dammi un ballone nero Che io potenzio la squadra Clicco ragazzi Sono pronto Il click Faccio click Con il naso ragazzi Con il naso Click Ho cliccato Ho cliccato Ballone nero Ballone nero Sì 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 Niente fulmine Chi sei? Pogba 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 Chi sei Pogba Non c'è Tensione D'abito Pogba 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 Abbiamo trovato Ragazzi Grande Pogba Grande Pogba E vai Non mi ho fatto il fulmine Perché non ho capito perché Ma non fa niente Pogba 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 Fortissimo ragazzi Questa è una bestia Centrocampo Questa è una bestia Mi dispiace Koke Ma te vai a cucca Grande Pogba E altro aggiunto alla formazione Ragazzi Altro aggiunto alla formazione Pogba Perfetto 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 Pogba Grandissimo Mamma mia Che fortuna ragazzi Uno dei tre che volevo C'è Ceratiego Silva Dzeko così Così e Pogba Questi mi servivano Terzo del Liverpool Ragazzi Si spacchetta Si spacchetta Speriamo bene di trovare Stavolta vogliamo Van Dijk Stavolta vogliamo Van Dijk Pure un doppione di Salah E un doppione di Alisson Va bene Perché possiamo allenare Se so I loro doppioni Tantissimo Ma vogliamo Van Dijk Ragazzi su tutti Pure il Roberto Firmino Andrebbe bene Alla fine Quasi tutti vanno bene Però Il terzino destro Sarebbe top Arnold Se non sbaglio Il terzino destro Speriamo bene ragazzi Spacchettiamo 100 monete Vai così Continua Dai gioco Per piacere Per piacere gioco Fammi vedere un bel fulmine Fammi vedere qualcosa di buono Dai 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 Un'altra gioia Dammi un'altra gioia Dammi un'altra gioia Conami Per piacere Conami Dai Prima il naso ha portato bene Quindi farò un altro spacchettamento di naso Dai di naso Che è successo? Che è successo? È uscito tutto nero Oh Fa che sta ancora andando Clicchiamo Che è successo ragazzi? È diventato tutto nero Che ho trovato? Ho trovato l'uomo nero Che è successo? Che è successo? È mo' il pacchetto? Come faccio a capire chi mi è uscito? Konami ha visto che stavo trovando troppi giocatori forti Ha staccato i server Stacca stacca Che si stanno tracciando Stacca Questo gioco mi ammazza Ah Finally Finally è partito ragazzi Chi avrò trovato? Ho cliccato per trovare il pallone È esploso tutto Pesimo by il 2019 Ma chi avrò trovato? Lo scopriremo adesso Entrando nel club Sperando di aver trovato il giocatore però Sperando di aver trovato il giocatore Entriamo ragazzi È il momento Il momento è sacro Il momento è emozionante È come l'Italia Alla finale dei mondiali Quando doveva tirare il rigore grosso È la stessa emozione ragazzi È la stessa emozione Che avrò trovato? Che avrò trovato? Andiamo in gestione squadra Fa che il giocatore sia lì Fa che sia uno forte Chi è? 3 2 1 Van Dijk Van Dijk Van Dijk Quello che volevo Quello che cercavo Che fortuna Che fortuna Vai E vai Van Dijk E vai Ho trovato i 3 perfetti Che volevo I 3 più forti Salah Alisson E Van Dijk Perfetto così Perfetto così I più forti Ho trovato Ma si manca solo Tiago Silva Porca miseria Ho trovato i più forti Bye bye godin Bye bye godin Bye bye godin Mamma mia ragazzi Mamma mia Che fortuna Mi ha fatto Sto Van Dijk Mi ha fatto Me l'ha fatto Passare Di tutti i colori Perché Ha fatto crashare Tutto Ma c'è 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 Per fortuna C'è Mo crash Anche questo pack No 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 Ragazzi No 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 Ragazzi Che crash Dai Spacchettiamolo Ragazzi Spacchettiamolo L'ultimo L'ultimo Dai Mo non faccio più Con il naso Perché ha fatto crashare Tutto il gioco Prima Però dai Continua L'ultimo giocatore Della settimana Per piacere Konami Tiago Silva Così lo metto di fianco A Van Dijk E stiamo a posto Anche se c'ho un titi Però Tiago Silva 91 Dai 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 Per piacere il gioco Non fare lo strupido Non fare lo strupido Sono già contento Non fa niente Se mi esce qualcosa di male Però Potresti darmi Quella gioia finale Proprio perfetta Dammi pure un doppione Di Pogba Va bene Pure un doppione Di Pogba Così lo alleno 3 2 1 Dai gioco Dai Boom Dai gioco Dai gioco Non fare lo strupido Il pallone nero Giusto giusto In mezzo ai tuoi oro Chi sei? Chi sei? Pizzi 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 qua Pizzi là Nananananana Non fa niente ragazzi Se Pizzi Non ci serviva Ci abbiamo Giocatori più forti Del centro campo Però va bene Pallone nero Ci è uscito almeno Pallone nero E quindi va bene così Pizzi Uno Uno un po' più Più scarso Doveva darcelo ragazzi Del ben figa Poi Pizzi Quindi Quindi diciamo Che va bene Dai va bene ragazzi Va bene Non fa niente Fa niente Va bene così Va bene così Attenzione Attenzione Iscrivetevi al canale Degli Amendolas Brothers Attenzione Attenzione Chi non si iscrive al canale Stasera Muore Attenzione Attenzione Chi non si iscrivetevi al canale Chi non si iscrivetevi a